La scuola media classica Non andavo bene in latino e così i miei genitori hanno capito che questa scuola non andava bene per me. Un anno più tardi sono entrato nella scuola media scientifica, ma anche là non andavo bene. Non so bene cosa sia accaduto, ma il direttore, che si chiamava Edgar Knott, ha constatato, o gli hanno riferito, che facevo degli errori insoliti. Hanno riflettuto su questa cosa e si sono messi in contatto con degli specialisti e mi hanno valutato per la prima volta come dislessico. Dovevo avere allora 12, sì, 12-13 anni e allora mi hanno messo l'etichetta di dislessico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.